Quello qui è solidario perché poi so che i soldi possono permettere a delle famiglie di avere una vita più felice. Io tra un prodotto normale e un prodotto eco e solidale preferisco un prodotto eco e solidale perché oltre alla qualità so anche che è una cosa equa sia per me che per gli altri.